Si è rivelato un flop l'incontro convocato dal sindaco di Summonte Pasquale Giuditta con gli altri primi cittadini della provincia per discutere del riordino del servizio idrico integrato. Presenti solo Luigi Denisco per Venticano, Ferruccio Capone, primo cittadino di Montella e Francesco Antonio Capone per Mirabella e Clano. Ad ascoltare le loro ragioni anche il presidente dell'Alto Calore, Lello De Stefano. Gli assenti hanno sbagliato a non venire. Per quanto mi riguarda, ha detto Giuditta, chiedo maggiore condivisione a De Stefano sulle scelte strategiche dell'ACS. Sono spaventato per come si sta gestendo questa vicenda. Dello stesso avviso Francesco Antonio Capone che vuol vedere chiaro anzitutto nei conti dell'ente di corso Europa e capire perché ACS a quanto pare così disastrato economicamente susciti gli appetiti di una società privata come la Gesesa. Prima conoscere la realtà che è, fino ai minimi dettagli, e poi voglio discutere di piani di investimento e piani di ammortamento, ammortamento del debito ed eliminazione del debito e soprattutto i piani di investimento che languono nella nostra provincia da moltissimi anni. Intanto non sono convinto della presentazione del progetto Gesesa. Si parla di una fusione ma non c'è un piano, non c'è niente. Poi il dubbio nasce spontaneo, banale quasi da parte mia. Come si fa a una società privata che va ad acquisire un patrimonio in chiusura? Probabilmente il patrimonio non è completamente così e probabilmente gli interessi di Gesesa sono un po' diversi.